Ciao, sono Federtube e vi do il benvenuto in un nuovo episodio di Gardaland Vintage. Questo sarà un episodio un po' particolare perché, grazie a questo episodio, noi varcheremo quella porta con una chiave, la chiave dell'immaginazione, che ci porterà verso un'altra dimensione. Una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Andremo verso un mondo fatto di sostanza e ombra, di oggetti e idee. In questo episodio vi porterò ai confini della realtà. Per molti secoli l'uomo, forse per cercare delle risposte alle varie domande che si faceva, era come attratto da una sete di conoscenza. Molte volte però questa sete di conoscenza poteva portare le persone oltre i loro limiti. Lo sa benissimo questo gruppo di esploratori, di archeologi, intenti a fare una spedizione in una tomba egizia, alla ricerca di ricchezze sia di cultura, ma anche materiali. Ma quello che questi esploratori ancora non sanno è che questa non si tratterà di una spedizione normale, ma un qualcosa che li porterà non solo in una tomba egizia, ma anche in una zona remota, ai confini della realtà. E in questo episodio noi non saremo solo spettatori, ma saremo anche testimoni e complici diretti della profanazione del tempio dell'ultimo faraone, perché in questo episodio seguiremo con gli esploratori alla scoperta della Valle dei Re. Un'attrazione per Gardaland monumentale, una dark ride, la prima dark ride di Gardaland, inaugurata nel 1988 con un ingresso spettacolare, che riproduceva in scala 1-2 la facciata del tempio di Wusimbel. Tra l'altro particolarità è che questo ingresso non richeggia solamente del tempio di Wusimbel per il lato estetico, ma anche per come è stato costruito, perché per la costruzione di questo ingresso si è attuato un sistema blocchi, quindi sono stati costruiti i vari blocchi di quella facciata e poi assemblati con la stessa logica e tecnica di quando divisero il vero tempio di Wusimbel in blocchi per spostarlo da dove sorgeva prima a dove sorge attualmente. E quindi il lato strutturale della facciata della Valle dei Re ha un'ereditarietà, grossomodo anche tecnica, per quanto riguarda il vero tempio di Wusimbel. Quindi a Gardaland c'è stato e tuttora lo troviamo, anche se un po' giumangizzato in me ultimamente, però a Gardaland abbiamo un vero e proprio monumento, una ricostruzione in scala 1 a 2, quindi grande la metà di un bene culturale. Quindi questo elemento, insieme a molti altri elementi decorativi che hanno caratterizzato la Valle dei Re, ha posto Gardaland in una posizione tra un parco divertimenti classico e anche un qualcosa di museale, fondendo così il divertimento al lato educativo. È una cosa che molti parchi di divertimento lo stanno facendo, l'hanno fatto, ed è un qualcosa di buono perché non c'è nulla di migliore che imparare divertendosi. E la Valle dei Re aveva questi rimandi alla cultura egizia, soprattutto alla figura di Tutankhamon, ma ne parleremo a breve. Praticamente una volta avarcate le soglie del tempio di Wusimbel, si entrava nella zona coda. Una zona coda un po' asettica, era un locale un po' buio con una classica serpentina, ma la cosa che dava colpo d'occhio e l'elemento dove noi in attesa dovevamo prestare attenzione era la stazione d'imbarco. Una stazione d'imbarco realizzata divinamente, che faceva sentire alle soglie di un tempio egizio, tra l'altro particolare era la scalinata con in cima un animatronico che nei primi anni di apertura sorreggeva, se non sbaglio, una lampada d'olio, poi dopo si è messo a tenere quella sorta di spada laser, che forse erano dei fulmini energetici che teneva tra le mani, ma poi dopo un braccio gli è calato e quindi è rimasto solamente con una mano che reggeva questa stecca di fulmini, un po' come se fosse appunto una spada laser, che bene si sposava con un altro elemento che avevano inserito a posteriori rispetto all'apertura, uno Stargate, perché c'era effettivamente lo Stargate all'interno della Valle di Re, non messo nell'88, ma messo nei primi anni 2000, insieme a un restyling che portò diversi cambiamenti e in questo viaggio all'interno della Valle di Re prenderemo come base la versione del 2006, però non mancherà qualche riferimento sparso a come erano quelle scene diverso tempo prima, quindi andremo anche a cercare dove nel corso degli anni quelle scene vennero cambiate, se per caso voi vi ricordate un po' di più di qualche cambiamento che aveva interessato alla Valle di Re, scrivetemelo pure qua sotto nei commenti, che il condividere le emozioni che porta la persona per il parco di divertimento è sempre un piacere, e poi è bello creare uno spazio dove confrontarsi, parlare, e anche sbloccare qualche ricordo, far scoprire sulla storia di Gardaland e anche di parco di divertimento in generale, però rimanendo alla stazione di imbarco noi ci accomodavamo su questi convogli che scorrevano silenziosamente tra le varie scene che componevano l'avventura della Valle dei Re, dei convogli che andavano avanti a ciclo continuo, quindi noi dovevamo salire con il convoglio in corsa, andavano comunque piano e per salire c'era vicino a dove passavano i convogli nella stazione un tapirulan che quindi facilitava la salita su quei convogli, però una volta accomodati su questo nostro mezzo di trasporto, iniziavamo a partire partendo da una piccola salitina. Prima di quella piccola salitina, intorno agli anni 2000, avevano aggiunto uno Stargate, questo portale che poteva far viaggiare le persone nello spazio e nel tempo, che ci avrebbe condotto verso la nostra avventura, verso l'inizio della nostra avventura. Infatti appena avarcato lo Stargate, potevamo scorgere sopra le nostre teste le statue guardiane, quindi noi venivamo giudicati dallo sguardo severo delle statue guardiane, che ci ammonivano dicendo che noi avevamo usato spingere i nostri passi alla soglia della tomba dell'ultimo faraone. Osiride era testimone di quel passaggio, ma ci avvertivano anche che in molti hanno usato varcare quelle soglie e nessuno è mai più ritornato. Quindi noi, sapendo il rischio a cui andremo incontro, ovviamente nella finzione narrativa, non nell'attrazione vera e propria, affrontiamo una discesina che era tanto lenta quanto ripida, infatti me la ricordo che era bella ripidina quella discesina lì, però si arrivava alla soglia della tomba del faraone, che era una ricostruzione della tomba di Tutankhamon, tant'è vero che qua nella Valle dei Re si seguivano le vicende di Lord Carnarvon e Howard Carter, due esploratori realmente esistiti, che furono i primi che entrarono nella leggendaria tomba di Tutankhamon, tant'è vero che la Valle dei Re all'inizio non si sarebbe dovuta neanche chiamare la Valle dei Re, ma la Vendetta di Tutankhamon, un nome simile, quindi la figura di Tutankhamon era più centrale, poi dopo l'attrazione si è decisa di chiamarla con un più generico, ma suggestivo ugualmente la Valle dei Re, però una volta entrati in quella camera di quel sarcofago, potevamo vedere vari esploratori che trafugavano qualche ricchezza, qualche tesoro appartenente al faraone, e altri esploratori che cercavano di aprire quel sarcofago. Nella versione dell'attrazione tra gli anni 90 e gli anni 2000, venne introdotta la frase iconica, «No, non aprite quel sarcofago!» con un successivo tuono, praticamente. Quindi lì ci faceva presagire una cosa, gli esploratori avevano aperto il sarcofago, e quel sarcofago aveva risvegliato la forza del faraone, iniziando così la famosa, la mitica, maledizione. Tra l'altro il bello è che successivamente poi, sempre dentro al sarcofago, avevano messo una mano di una mummia che faceva capolino, che spuntava fuori, proprio a simboleggiare ancora di più, il fatto che il faraone si stesse risvegliando. E infatti noi, uscendo da quella tomba di Tutankhamon, dove c'era una sorta di spaccatura sul muro con un esploratore che faceva capolino dietro, che era bello perché dava più profondità alla scena, però uscendo dalla tomba di Tutankhamon, passavamo vicino a un punto un po' sottovalutato, ma che per me era particolare, perché c'era un espediente teatrale, tra l'altro, non so se avete visto il video della Magic House, in caso vi metto il link al video fissato al primo commento, perché? Perché una volta usciti dalla scena della tomba di Tutankhamon, alla nostra sinistra c'era lo stesso espediente tecnico che si può trovare nell'ascensore della Magic House, ovvero il telo semitrasparente, un telo che, quando veniva illuminato frontalmente, dava un senso di opacità, come se noi stessimo guardando un muro del tempio del faraone, pieno di geroglifici, tra l'altro, ma quando il telo veniva illuminato da dietro, potevamo vedere cosa nascondeva dietro, e che cosa nascondeva? Una sorta di, mi sembra, resurrezione dell'anima del faraone. Si vedevano degli animatronici illuminati da una luce intermittente proprio per far presagire che qualcosa di oscuro nelle profondità del tempio stava accadendo, e prima di raggiungere la scena successiva, c'era alla nostra destra una colonna che minacciava di cadere, con dei suoni temporaleschi, quindi tuoni, fulmini, un qualcosa che faceva presagire ancora di più la maledizione che era in atto e che, a breve, ci avrebbe colpito. Ma lasciandoci alle spalle questa scena che dava l'inizio della maledizione, ci trovavamo poi in un posto completamente opposto, scatemi il gioco di parole, alla scena precedente, perché ci trovavamo nell'accampamento degli esploratori. Un accampamento che, dopo il restyling, tra gli anni 90 e il 2000, faceva vedere un accampamento durante un tramonto, con le piramidi sullo sfondo, ma nella versione originale, la scena dell'accampamento aveva un setting notturno, quindi era, diciamo, una notte nel deserto. Però, lì, in quella scena, che sia di notte oppure al tramonto, potevamo trovare gli esploratori che armeggiavano i tesori del faraone appena trafugati. Erano lì che stavano facendo festa. Un esploratore ubriaco parlava con il suo sinnello vicino dicendogli Allegro, vecchio mio! C'è andata bene! Siamo fuori! Quindi, questi esploratori erano in festa, in un momento di sollievo, dicendo Noi siamo entrati nella tomba del faraone. Alla fine abbiamo scoperto che la maledizione, apparentemente, non esiste. Infatti si sente anche la frase La maledizione, solo chiacchiere per gli sciocchi! E tutti sono presi con questo clima di festa, con questo clima di pace, senza sapere che, come in ogni avventura di questo tipo, il pericolo è sempre dietro l'angolo, quando meno se la si aspetta. Infatti, molte volte vedo come, ad esempio con il meglio esploratore della Valle dei Re, alcuni protagonisti, alcuni personaggi di un'avventura, festeggino, non sapendo che, di lì a poco, le cose si metteranno in un modo dove non c'è molto da festeggiare. Tra l'altro, lì, si vede anche un'esploratrice. Quell'esploratrice, in qualche scena dopo, si scopre avere un nome, ovvero Jenny. Ma la figura di Jenny, teniamo la mente perché, a breve, ci tornerà molto utile. Però, una volta lasciato questo accampamento, nella versione post-Restyling 2000, si fa notte e, quando le tenebre calano, alcuni esploratori, avidi, ancora di più di ricchezza, vogliono provare a rientrare in quel tempio, perché non gli bastavano i tesori che avevano preso prima. Loro volevano di più, non sapendo i pericoli che, di lì a poco, le avrebbero attesi. E infatti, appena dopo l'accampamento, si rientra nel tempio, ma non si rientra in una stanza normale del tempio, si entra nella stanza del tesoro, una delle scene, per me, più suggestive della Valle dei Re, perché c'era questa scena con il tesoro sovrastato da una statua, e da quella statua partivano dei raggi laser, che la loro spettacolarità la sapevano dare tantissimo. Era una scena che, per carità, c'era la semplicità di un raggio laser, ma, in quel contesto, con la giusta colonna sonora, sapeva rendere un qualcosa di apparentemente semplice, come un laser, spettacolare. E tra l'altro, nei primi anni di apertura, non c'erano i laser, ma c'era semplicemente un cambio luce che risaltava la statua che sovrastava al tesoro. Tra l'altro, lì si poteva vedere anche un serpente, credo sul dorato, gigante, che era come se prendesse vita. E quindi, lì, gli esploratori, e anche noi, potevamo dedurre che, da quel momento, questo viaggio ci avrebbe condotto letteralmente ai confini della realtà, arrivando poi in una scena ambientata nelle profondità del tempio. E lì, in quella scena, si poteva vedere una setta che abitava alle profondità del tempio che catturava gli esploratori, tra cui anche Jenny. Quindi, gli esploratori che venivano catturati erano gli stessi che prima festeggiavano nell'accampamento. L'avevo detto che non c'era nulla da festeggiare molto. Però la figura di Jenny in quella scena è centrale, è diciamo una figura chiave, perché nei primi anni di apertura potevamo vedere Jenny più o meno in piedi sopra un pozzo di lava che veniva sacrificata. E si poteva sentire delle voci dicendo hanno preso Jenny, fuoco a volontà su questi. Una cosa simile. Tra l'altro ringrazio tantissimo un utente del forum di Perseplanet che ha avuto la pazienza di trascrivere diversi dialoghi sia delle versioni precedenti che di quelle post 2000 che oltre ad aver fatto un viaggio indietro nel tempo con i ricordi ha dato almeno per me una chiave di lettura in più all'attrazione riportando alla memoria il nome di Jenny, questa ragazza che nei primi anni di apertura della Valle dei Re si muoveva, chiedeva anche aiuto, ma con il restyling tra gli anni 90 e il 2000 questa ragazza da in piedi la potevamo trovare estesa quasi mummificata come se su Jenny ci fosse in atto un processo di mummificazione e si sentiva un personaggio urlare fermi quella ragazza è viva! Questa scena prende ispirazione da una scena del film Piramidi di Paura che effettivamente riprende quella scena in tutto e per tutto con una ragazza usata come sacrificio sempre da una setta di diciamo natura egizia con il protagonista un giovane Sherlock Holmes che urlava appunto fermi quella ragazza è viva quindi si aveva questo riferimento cinematografico senza dare eccessivo risalto a un brand esterno ma mettendo quel richiamo come un easter egg chi lo coglieva bene e chi non lo coglieva comunque aveva un momento coerente con la storia e gli accadimenti che poteva vivere all'interno dell'attrazione una volta poi superata questa scena carica comunque di pathos alla fine erano gli esploratori che venivano fatti prigionieri da quella setta che abitava nelle profondità del tempio chi lo sa se gli esploratori si sarebbero potuti liberare chi lo sa se gli esploratori avessero potuto vedere la luce del sole in un futuro però noi riusciamo in qualche modo a scappare alla fine i protagonisti di questa avventura bene o male siamo anche noi e noi abbiamo la famosa fortuna del protagonista che ogni protagonista sia di un film di spionaggio d'azione o d'avventura c'ha sempre un po' più di fortuna rispetto agli altri ecco siamo noi quelli per fortuna però non canterai vittoria perché dopo la scena della cattura degli esploratori qualche altro ostacolo si sarebbe messo in mezzo sul nostro cammino e infatti potevamo andare al cospetto delle mummie delle mummie d'antichi egizi forse antichi faraoni che ritornavano in vita avventandosi sugli esploratori e gli esploratori ancora più avidi di ricchezza volendo andare ancora più oltre i limiti cercavano anche di sbendare qualche mummia dicendo chissà se lì sotto quelle bende c'è qualche ricchezza e poi si poteva sentire anche nella versione originale nei primi anni di apertura un esploratore che diceva è come se una forza invisibile ma avesse strappato la lanterna quindi qua il soprannaturale prende ancora più piede quelle mummie che riposavano da millenni venivano risvegliate dall'avidità di questi esploratori a noi non restava altro che scappare chissà se effettivamente qualcuno o qualcosa ci avrebbe salvato e dopo il restyling post 2000 potevamo vedere uno stargate così come quel portale che avevamo varcato all'inizio dell'avventura quando l'ultima speranza di una salvezza poteva essere vana ritroviamo svoltando l'angolo quel portale quel portale che attraversandolo ci porta verso la fine dell'avventura e attraversando il portale che cosa c'era forse il momento più iconico di tutta la valle di re ovvero il cono di laser finale ora alzi la mano chi non ha mai cercato di sfiorare quel cono di luce che pervadeva tutti noi quando passavamo di lì e tra l'altro a proposito di cono di laser verde vi rimando a un'illustrazione di daniele che riprende quel momento topico con il cono di luce verde che si sprigiona dalle profondità del tempio un qualcosa che esisteva già da prima dello stargate e poi con lo stargate è stato valorizzato come fosse il wormhole che ci avrebbe condotto alla nostra dimensione di partenza tra l'altro vi lascio il link fissato al primo commento di questa illustrazione andate a vederla riempitela di like perché prende proprio tutta l'essenza di quel momento della valle dei re però una volta che noi oltrepassavamo quel cono di laser con tra l'altro sottofondo la colonna sonora di stargate quindi un momento alto quasi come fosse la fine dell'avventura però l'avventura era veramente finita perché ve lo chiedo perché si sa che in molti film soprattutto quando si parla di un qualcosa di soprannaturale così come una maledizione del faraone c'è sempre il cliffhanger alla fine c'è sempre quel qualcosa che fa capire che ok il film è finito ma non del tutto lasciando così il film in una sorta di finale aperto infatti appena superato quel cono di luce laser ci trovavamo faccia a faccia con una mummia forse la mummia del faraone che dall'alto del suo trono sopra degli scalini ci diceva l'iconico maledetti voi siate e quindi era diciamo il pathos finale quello dell'attrazione con il faraone che diceva voi siete riusciti a scappare dal tempio ma dalla mia maledizione non scapperete mai e così finiva l'avventura della valle dei re un qualcosa di incredibile la valle dei re a Gardaland è stata non la prima dark ride in italia perché prima della valle dei re credo nell'86 quindi due anni prima era stata inaugurata ad denlandi a napoli un'altra dark ride una sorta di it's a small world quindi si andava in un mondo popolato da bambole un mondo diciamo un po' più giocoso la valle dei re aveva portato qui a Gardaland una sorta di avventura un po' passatemi il termine in stile haunted mansion o phantom manor ma non ambientata in una classica casa di fantasmi ma ambientata in egitto dove il lato paranormale non era dato dalla presenza di fantasmi così come nella haunted mansion o phantom manor quindi non era un qualcosa di chiamiamolo classico ma era un qualcosa di un po' più ricercato infatti il lato paranormale della valle dei re era dato dalla presenza della maledizione del faraone giocando tutto sull'originalità che è stata per me la chiave del successo della valle dei re insieme alla sua realizzazione la direzione del parco quando pensava a una dark ride voleva fare inizialmente un qualcosa di piratesco poi dopo effettivamente realizzato con i corsari però all'inizio Valerio Mazzoli che allora lavorava come scenografo del parco aveva lanciato l'ipotesi di una dark ride a tema egizio un qualcosa di inusuale soprattutto allora tant'è vero che Valerio Mazzoli per proporre la valle dei re si era basato su un'idea che gli era venuta in mente quando ancora lavorava per i parchi Disney pensando a una possibile attrazione per Epcot e quindi per Epcot uno dei parchi del resort Disney di Orlando in Florida Valerio Mazzoli aveva già pensato un'attrazione in sile egizio se non sbaglio un'attrazione che inizialmente doveva essere percorsa a bordo di imbarcazioni quindi un qualcosa sull'acqua poi dopo nella realizzazione della valle dei re i piani cambiarono e venne varato questo sistema di trasporto a ciclo continuo più o meno come era anche in Phantom Man o seppur con i convoli diversi realizzati anche se non sbaglio da ditte diverse perché perché il sistema di trasporto della valle dei re l'avevano studiato insieme alla Pinfari che poi a Gardaland aveva portato anche attrazioni come i Canyons ad esempio però la particolarità è che il concept iniziale della valle dei re era pensato per un parco della Disney e infatti si vedeva l'impianto disneyano delle varie scene la cura dei dettagli una cura di dettagli incredibili fate conto che ogni oggetto d'arredo era stato ricreato da Valerio Mazzoli ma con una cura precisa Valerio Mazzoli aveva avuto modo di studiare anche dei reperti riproducendoli quindi le riproduzioni degli oggetti della valle dei re erano riproduzioni fedeli di tesori mobili arredi risalenti all'antico Egitto un qualcosa di museale voi quindi pensate un'attrazione stra dettagliata con una storia indefinita con una grande scenografia con anche oggetti museali che ai tempi si poteva trovare a Gardaland un qualcosa di incredibile lo era incredibile all'epoca e lo è incredibile per certi versi ancora adesso il pensiero di poter vivere un'esperienza un'avventura all'interno di un contesto realizzato al dettaglio a fine stagione 2008 dopo 20 anni di attività la valle dei re purtroppo chiusa i battenti e per me quella chiusura della valle dei re è stata emblematica perché perché per me con la chiusura della valle dei re è come se si fosse chiusa un'era per Gardaland infatti poi già l'anno successivo nel 2009 arrivò Ramses il risveglio un restyling della valle dei re purtroppo un bel po' sottotono rispetto a come era la valle dei re all'inizio cambiava anche la storyline noi entravamo in quel tempio non più per assistere alla profanazione della tomba del faraone ma entravamo con un gruppo di studi ufologici abbreviato in GSU che dovevano debellare un'energia strana un'energia aliena che si era propagata nelle profondità del tempio e quindi noi con le nostre pistole laser infatti l'attrazione con Ramses il risveglio cambiò leggermente anche la sua tipologia passando da Dark Ride classica a Dark Ride interattiva e quindi una Dark Ride ovvero un percorso al chiuso dove le persone salendo bordo di convogli passavano per le varie scene ma in una Dark Ride interattiva oltre a guardare c'era anche il lato action più o meno diciamo infatti ogni persona sulla sua postazione aveva una pistola laser che sparava dei bersagli laser disseminati lungo il percorso che o portavano a qualche evento purtroppo in Ramses il risveglio l'interazione con la scenografia era minima sparando a un bersaglio ad esempio non si muoveva nessuna parte scenografica ma o cambiava qualche luce o veniva attivato il fumo scenico in una stanza ma soprattutto sparando i bersagli si poteva fare un punteggio quindi c'era anche una sorta di challenge di sfida magari tra gruppi di amici che andavano a fare quell'attrazione purtroppo Ramses il risveglio per la troppa staticità aveva le scenografie portanti della Valle di Re ma gli animatronici già non c'erano più alcune scene erano state radattate tipo la scena dell'accampamento che la scena di un accampamento è diventata una scena con delle piramidi che veniva chiamata quella parte la sala delle piramidi non so se effettivamente fosse una parte dentro in un tempio con delle piramidi miniature ricostruite che non ne conosco il senso oppure una scena esterna magari ambientata in un deserto egizio con effettivamente le piramidi che emanando luce laser facciano presagire che anche al loro interno succedeva qualcosa stava succedendo qualcosa c'era un qualcosa di questa strana energia in atto e poi la scena della cattura degli esploratori era diventata la scena della battaglia quindi il momento che sarebbe dovuto essere il momento clou dell'attrazione ma purtroppo i manichini che non si chiamerebbero manichini ma per la loro staticità li chiamo passatemi il termine manichini dell'esercito robotico rivale coloro che si stavano risvegliando avrebbero dovuto ingaggiare una battaglia con noi ma erano fermi praticamente in posizione statuaria che ok va bene però non davano quel pathos che quella scena avrebbe dovuto avere la scena delle mummie poi dopo era stata riconvertita come una scena con degli scarabèo giganti che anche loro erano fermi avrei detto ok poi non so se sarebbe stato possibile o meno mi sarebbe piaciuto vedere quegli scarabèo muoversi un po' in modo tale che il bersaglio sul loro dorso sarebbe stato un po' più difficile da prendere ma la scena quella del cono di laser alla fine è stata cambiata con una scena dove il cono di laser c'era ma era un po' più affievolito e alla nostra sinistra c'erano questi macchinari iper tecnologici sui quali erano disposti dei bersagli dove noi dovevamo sparare praticamente un qualcosa che purtroppo un po' ha spezzato quella scena perché quando c'era il cono di laser sembrava di essere in un luogo sconfinato purtroppo con l'aggiunta di quegli elementi il rams e sirio sveglio ha tolto un po' la sensazione di trovarci in un posto sconfinato che ai tempi quando c'era il laser verde era una cosa di incredibile praticamente dopo tante critiche il rams e sirio sveglio venne chiusa e al posto di rams e sirio sveglio venne inaugurato Jumanji Adventure arrivando così ai giorni nostri il lato egizio purtroppo ultimamente è stato confinato giusto all'ingresso un modo per fare un ponte trapassato e presente come fosse un piccolo tributo anche se un'attrazione con la scenografia della valle di re per me è un qualcosa che era è e sarà irripetibile comunque sia scrivetemi qui sotto nei commenti voi che ricordi avete della valle di re e nel prossimo video sono in arrivo i pirati li troverete sui loro vascelli irti di cannoni scatenati in battaglie navali in cui vi sembrerà di essere coinvolti realmente in un grandioso padiglione veramente unico al mondo e quindi vi aspetto in un prossimo episodio dove la storia di Gardland prende vita con Gardland Vintage ciao ciao